Grazie a tutti. Che voglio fare con la Polonia? Andiamo, andiamo. Sì, sì, a fine giugno credo. Vedi? Quindi arrivano ragazzi. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 . 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